Ma ciao bellissimi, sono Grax, come state spero tutto bene, e sono veramente euforico. Siamo tornati su Brawl Stars, perché sono euforico? Perché se vado nello shop ho quei 50 crediti cromatici che mi servono precisi per sbloccare un brawler cromatico. Quindi 50 like a testa, iscrivetevi, campanella, codice Grax alla fine dell'infinito shop, sempre sulla destra, inseritelo prima di effettuare acquisti, offerte, costo euro, cambio euro in gem, quello che vi pare. Vado nelle primissime offerte, prendo sia crediti normali per la fama che crediti cromatici per i cromatici. Eccoli qua, la sgoli, la fama poco ci interessa. Sono a 500 l'eccesso, no regà, l'eccesso viene conteggiato, 510, si flana su Odis e lo sblocchiamo. Eccolo qua, 500 oppure 169 gemme, insomma, mi conviene sbloccare Odis. Attenzione, non sbloccherò Sam per questa stagione, perché al momento costa 1.500. Da gennaio costerà 500, sarei un matto a sbloccarla adesso, anche perché non potrei, perché non c'ho i crediti. 500, se prende Odis, lo andiamo a testare all together, vediamo che tipo di brawler è da quello che ho capito. E' un brawler molto forte, perché l'ho visto spesso nelle partite dei campionati mondiali e così via. Bella per Sam, manca solo lui alla collezione completa dei brawler. Andiamo nei brawler, eccolo qua, lo riesco a potenziare un pochino sì, però prima di tutto lo testiamo a livello 1, solito test in solo. Poi dopo lo potenziamo e vediamo un po' quello che combina. Questo è il brawler silenziatore, cioè tirando la ulti praticamente l'avversario diventa un mollusco. Cioè può solo camminare e fa pure diversi da... Regà, 400 a livello 1, non è male per niente, per ogni colpetto. Guarda lì il righetto uorca, occhio al righetto uorca. Danni per il righetto uorca. La hit, la hit, la kill, l'abbiamo fatta. Prende al volo qualche power up per poi andare a silenziare un eventuale scegli. 484, molto good. Certo, a livello 1 fa un po' fatica. No, questo è un brawler buono, si vede regà, è veloce, dinamico, si muove bene, i colpi sono abbastanza veloci. Con la ulti poi ti vai a divertire. Tipo io qui butto un silenziamento, l'8-bit diventa letteralmente inutile. Cavolo ragazzi, se è forte sto brawler. Vabbè, ma di che stiamo a parlare? Stiamo un attimo fermi. È incredibile, regà vi giuro è incredibile. C'è una rosa, vediamo che posso combinare la rosa. Adesso sto facendo un sacco di danni. Rosetta si avvicina, gli do qualche colpetto più che altro per caricare la ulti. È vero che la ulti ci mette un pochino a caricarsi, non è una cosa super instant. Voglio farmi pushare e poi dopo la killo. Vediamo, eh. Lei scappa con la ulti, vi dico solo questo. Mi avvicino. Mi prendo a pizza, silenzio. Questo brawler è molto forte. Questo brawler è molto forte. Voi che siete molto più pratici di me a livello di qualità di brawler, rank dei brawler, tier list dei brawler e così via. Fatemi sapere quale secondo voi è il miglior brawler al momento. Molti mi hanno detto Chester che è letteralmente rotto per quanto riguarda la star power e la shopperiamo. Preparatevi. Secondo me Odis e Gas magari chiudono il trio. C'è qualcun altro che manca all'appello che ha detto Creax. Siamo a livello 4, l'andiamo a testare. Ma questa volta si va in duo. Vediamo se riesco a valorizzare i miei compagni, a silenziare magari doppi brawler di un team. Non lo so, studiamo. Non so se si può fare magari qualcosa in combo. Comunque già a livello 4 fa 500. Immaginatevelo maxato. Quello che può combinare questo brawler. Veramente top. Comunque i brawler cromatici sono sempre fortissimi. Ce ne stanno pochi di scarsi dei cromatici. E giustamente, diciamo, li mettono forti come sul Royale. È la stessa politica. Eh, tra l'altro sto per morire un attimo. Non ho tantissima vita. Perché così ti spingono a shoppare il passo, no? Non è una cosa che mi invento. Occhio, recupero un po' di vita. Lì c'è stata una Penny. Non so dov'è il mio amico. Sta nella parte bassa. Il coltigno. Prova a toglierlo. L'adolto Bruce è cattivissimo. Però la kill l'ho fatto. Non è il primo! Ma è il primo non l'ho visto. Occhio al pocio. Non ho preso i power up. Do sta l'amico mio? Amico mio! Tanto questo lo silenzio. Tanti saluti al pocio. Non te curi. Ma quanto dura il silenziamento? Mi sembra parecchio, eh. Là c'è sempre la signorina Penny. Che sto per killare. Ci ha pensato Grey. Te dico solo questo. Intanto, buoni quei danni. Vediamo anche al volo le missioni. Se posso prendere qualcosa dal pass. 596. Ammazza che sfiga. Pezzo grosso. Fang. E Vinci. Nell'hotel dei ladri. Che alla fine potrei pure farlo. Magari prendiamo pure qualcosina. Questi non li prendo. Mi li tengo di scorta. Come vi ho detto. Conviene tenerli. Nella speranza che escano brawler. Poi se non escono brawler. Li prendiamo e vanno nella fama. Tanto la fama è tutta completamente sballata. Vado nell'hotel. E vediamo se funziona nel rubaregali. Secondo me a coppe basse comunque ci può stare. Questo è un brawler che mi piace veramente tanto, regà. Tralasciando poi la qualità della skin. Cioè della skin. La qualità del brawler. Cioè per quanto riguarda la personalizzazione del brawler. La supercell è il leader, regà. È il leader. Veramente so. Bravissime a livello di skin. A livello di... Buoni. Silenziamento. Kill effettuata. Di character design. Di cambiare comunque il gameplay. E rendere... Metterci sempre roba nuova. Roba dinamica. So pazzesco. Certo. Poi il fatto che so tanti brawler. Quello è un po' meno pazzesco. Perché appesantisce il game. Posso silenziare i miei amici? No. Non posso silenziarli. Giustamente. Non diventa un boost. Però posso silenziare tutti quelli che... Me pushano. I si pesi. Regà dai che ci facciamo pure la sfida. Uno su cinque. Secondo me la possiamo finire. Gli unici brawler. Secondo me un pochino sotto tono degli ultimi che ho visto. Poi voi fatemi sapere. Sono Bonnie e Janet. Infatti eccola lì. Bonnie che c'è il cannone. Non mi convince più di tanto. Rispetto ad altri. Sono molto più particolari. Poi ovviamente tutta roba soggettiva. Magari Bonnie è il vostro brawler preferito. Jenny pure. Mi sembrano molto simili. Non lo so ragazzi. Fatemi sapere che ne pensate. E poi tra l'altro anche quella di Bonnie. È una meccanica tanto particolare. Perché si trasforma da long a brawler da ravvicinato. Non lo so. Diciamo che la mia è una voce fuori campo. Fuori dal coro. C'è il parere di una persona esterna che sta rientrando sul gioco. Ultime tre partite le facciamo insieme. Ci finiamo la sfida. Prendiamo la roba del pass e siamo tutti contentissimi. Ci becchiamo live. Quindi vi consiglio sempre di attivare la campanella. Voglio silenziare tutti quanti gli avversari. Ci vogliono forse cinque colpi per caricare la ulti. Non è poco. Poi dipende sempre dai gadget e dai star power. Perché anche quello modifica parecchio il brawler. Cambia un sacco. Intanto il Chester porta avanti il regalino. Tutti quanti stanno scalando quella present. Che è molto molto veloce. Con Grey che poi te crea portali. Va tutto molto fast. Questo lo killo io. Questo. Cavolo ragazzi che miss che ho fatto. Da pollastro. Vado a prendere instant il pacchetto prime regalo. Passo sotto. Passa a getta il Grey. Colpettini per il righetto che worka. E l'andiamo a killare. Victory per noi. Molto bene. Tre su cinque. Che la possiamo fare? Sfidarella fatta con il nuovo brawler. Andiamo per uno. Solo che dobbiamo aspettare il nuovo pass. Quindi poi ne mancheranno effettivamente due. Ci stanno solo i nuovi brawler. Sia Grey che Chester. L'hanno sbloccato tutti. Poi io nel senso sto mettendo il gioco ancora. Ti becco sempre gli stessi. Passa bello mio. Vai a te per go. Vabbè vado avanti. Dopo uscirà il nuovo brawler cromatico. Non mi ricordo come si chiama quella delle caramelle. Mi conviene shopper pass. Grax vi chiede. L'ho silenziato. È vero ragazzi. Ho pure silenziato. Senza che l'avversario, non si sa che passaggi stanno a fare quelli, abbia finito lo shield. Molto bene. Molto bene. Quindi praticamente nasci e sei già senza ability. Non sei immune dalla potenza di Odis. Quello è silenziato. Scusate ma fa pure danni nel tempo. E allora è roba seria. È roba veramente, veramente seria. Bella quella kill. Occhio. Alla torretta. Te prego c'è Esther Vassala. E invece c'è Esther azione solitaria. Ronaldo Siu. Ultimo match con Odis. Purtroppo non ho punti energia. Ma se riesco a fare altri soglie. Vedete che per l'ultimo match il Grax vi delizia. Con un Odis. Attenzione. Solo livello 5. Ma ci va bene. Ci accontentiamo. Ultima vittoria. Odis, Mortis e Grey. Gli avversari. Non ho paura di nessuno. Perché ho una freccetta su de me. Non so se l'avete vista. Quanti danni faccio a livello 5? Comunque Odis contro Odis. Sparagli. Ste spruzzate Grax. Vai. Dove sta il Mortis? Tipo contro Mortis. So. Un silenziatore professionista. Però certo. Se riesco ad avere la ulti. E tutto un altro discorso. Occhio perché il Mortis l'ho visto abbastanza cattivo. Ma se tipo lo silenzio ho la possibilità di non fargli tirare nulla. Ok. Il pacchetto l'ha sbagliato l'avversario. Occhio all'Odis. Cattivissimo. Silenziato il Grey. Oh ma quel portale ma non l'avevo visto. Passaggio tattico. La possiamo portare a casa. Killato il Mortis. E io rimango alto perché così silenzio pure lui. Vabbè qualcosa di assurdo sto brawler regà. Bellissimo. Veramente bellissimo. Ragazzuoli. Ve chiedete like. L'iscrizione alla campanella. Mi raccomando è fondamentale. Codice Grax. Se volete supportarmi. Andiamo a prendere. Forse quella vittoria ce la faccio eh. Ah ma mi sa che non dava punti. Per quanto riguarda il pass. Vabbè. Grazie per il supporto. Ci becchiamo con altri video sul canale. L'importante è la campanellina. E iscrivetevi perché molti di voi non sono iscritti. Baci giganti. Ciao belli. Ciao ciao.